Ciao amici cari, guardate, un mazzo di carte, tutte carte diverse, questo ci tengo veramente, ora diamo una scoratina, guardate che non ci sia nessun ordine, ora io non guarderò niente, tutte carte diverse, per esempio questa qua, qualsiasi carta va bellissimo, si chiude tutto, l'avete vista, tutto chiuso, nessun segno, niente, guardatemi, 10 di quadri, ciao!